L'interramento della statale all'altezza di Viale della Repubblica esce dalla lista dei progetti a medio e lungo termine per spostarsi nel tempo indeterminato di un archivio di idee accantonate, almeno per il momento, dal Comune di Pesero. L'idea della Rambla, così ribattezzata dal Sindaco Ricci, incappa infatti in una brusca frenata dopo un visionario viaggio partito sullo slancio di ottimismo che aveva già messo in fila un progetto di fattibilità e l'inserimento nello scorso autunno all'interno del piano triennale delle opere. Una creazione di un'unica passeggiata e pedalata senza sosta da Piazza del Popolo alla Palla di Pomodoro per la quale era stata stimata una spesa di 6 milioni di euro. Troppi per accendere un altro mutuo di tale portata. Anche perché nei piani iniziali gran parte dell'interramento della statale sarebbe stato finanziato dagli oneri di urbanizzazione pagati al Comune per costruire sull'ex Bramante, edificio tuttora invenduto quando la cessione a privati sembrava cosa fatta. Un'idea dunque in naftalina nonostante un progetto già finanziato da 100.000 euro per pianificare il sottopassaggio. Progetto che ora diventa una carta da giocarsi per l'intercettazione di bandi capaci di ritagliare analoghe risorse.